Il PSI ribadisce che il porto di Civitavecchia è pronto ad ospitare il relitto della Concordia, il bacino di Caranaggio sarebbe pronto in sei mesi. Il PSI ribadisce che Pier Federici sarà il capogruppo del partito in consiglio comunale, e intanto invita i cosiddetti dissidenti ad occuparsi dei problemi della città. All'Uvione, il Presidente della Regione Lazio ha firmato il decreto Marcello Meroi, nominato soggetto attuatore degli interventi, sospiro di sollievo per Montalto. Palla nuota è iniziata ieri alle 19 allo stadio del nuoto alla preparazione atletica della SNC in vista della stagione 2013-2014. Mi trovati dal Tg Alto Lazio, un bacino di Caranaggio pronto entro sei mesi e la possibilità di raggiungere un accordo con la Regione Toscana per scongiurare che il relitto della Concordia possa essere portato fuori dall'Italia per lo smantellamento. Questo è il progetto che stanno portando avanti Autority, Comune e Regione, come sentiamo in questa intervista. Segretario, tante riunioni in corso anche con il Comune. Ieri il Presidente Monti è stato dal Presidente Zingaretti. Ci sono possibilità per portare il relitto della Concordia qui e che progetto abbiamo? Io penso che in questo momento si sta creando una sinergia a livello istituzionale che è diventata molto importante. L'appoggio che ci sta dando il Sindaco, l'appoggio anche del Presidente Zingaretti sono fondamentali. Quindi se si riesce a chiudere questo accordo interregionale fra noi e la Toscana io penso che sia la migliore soluzione per tutti perché può creare un lavoro, un indotto, un'azione comune che diventa veramente un modello per tutto il resto della Nazione. Ecco, si è detto tantissimo nei telegiornali e anche nazionali in questi giorni molti porti hanno avanzato la propria candidatura. Civitavecchia noi riteniamo che possa avere una marcia in più, magari in sinergia con Piombino. E siamo qui sulla banchina 26, dove potrebbe essere allestito questo bacino di carenaggio? Quanto tempo? Che costo? Noi pensiamo che allo stato dell'arte noi in sei mesi riusciamo a rendere operativo il cantiere. Abbiamo però visto un costo di una trentina di milioni quindi c'è una cifra che direi relativamente bassa per tutti gli investimenti che nello stesso tempo stiamo facendo. Quindi proprio per questo è un'occasione da non perdere in relazione alle possibilità che abbiamo sia come fondali, sia come opere già realizzate sia come possibilità di utilizzazione della mano d'opera locale e del tutto il territorio circostante. Anche questo è un dato importante perché questo vuol dire poter sviluppare tutto quanto un indotto nel territorio anche dal livello della bassa Toscana che diventa veramente un'occasione imperdibile. Prossima mossa? Noi vorremmo presentare un progetto unitamente alla Toscana proprio per questo cioè tentare di creare un'azione comune in modo da presentare al governo un'azione fatta fra noi e la regione toscana a cui non si possa dire di no. Il partito socialista fa quadrata attorno ad Andrea Pierfederici, fa parte del PSI e sarà il capogruppo del partito in consiglio comunale. Invitano Sinistra, Ecologia e Libertà e gli altri consiglieri comunali che si sono opposti all'ingresso del consigliere al partito della coalizione di abbassare i toni della protesta per poter iniziare a lavorare sui problemi veri della città. Sentiamo i particolari nella nostra intervista. Non si accettano ricatti da parte di altri partiti, soprattutto della coalizione. Il PSI ha soltanto cercato di rafforzare la sua squadra per dare maggiore contributo alla maggioranza. Ma lo spirito è questo, lei lo ha centrato. Noi siamo convinti che abbiamo un dovere morale nei confronti del paese rafforzare il centro-sinistra. Ma questo riguarda la Civitavecchia, riguarda Roma e riguarda gli altri comuni del Lazio per quanto riguarda la regione Lazio. È fondamentale, è un appello che rivolgo al PD e a SEL. Il problema di fondo è che il Partito Socialista è un partito che mantiene, che rispetta gli impegni assunti, che non crea problemi, ma che invece nel suo spirito è convinto ed è sempre attento a mantenere serenità nella proposta, ma nella proposta che tende a migliorare la qualità della vita di questa città. Questo è lo spirito con il quale noi operiamo in questa città. E l'adesione di un consigliere, mi dispiace che abbia creato una situazione per cui il consigliere precedente Meli se ne sia andato. Non lo comprendo. Si sarebbe rafforzato, avremmo avuto due consiglieri e sarebbe stato un consigliere forse maggiormente impegnato sui problemi. Gli auguro tanta fortuna, ma auguro a questa maggioranza di ritrovare l'equilibrio, il buon senso, perché bisogna rispondere alle esigenze dei cittadini e non alle esigenze egoistiche all'interno dei singoli partiti. Ma nonostante la presa di posizione dei socialisti, la questione non è assolutamente chiusa per il coordinatore del Partito Democratico, Clemente Longarini. Le dichiarazioni dei socialisti, ha sottolineato Longarini, non spostano i termini della questione. La posizione del Partito Democratico è chiara. Per Federici non è e non fa parte della maggioranza che ha vinto le elezioni. Parole queste che non sembrano affatto chiudere la polemica nata attorno alla vicenda che ha portato in questi giorni i consiglieri di Sinistra, Ecologia e Libertà, i due consiglieri del PD, Flavio Magliani e Mauro Guerini, e il consigliere della lista, Tidei Marco Di Gennaro, a porre un ultimatum al primo cittadino e al partito dell'assessore Alvaro Balloni. Ora però ci sarà da capire un'altra cosa. Se Pier Federici potrà presiedere alle sedute del Consiglio Comunale in qualità di capogruppo del Partito Socialista Italiano o dovrà sedere tra i banchi della Pucci in qualità di consigliere del gruppo misto. Una situazione è questa che i socialisti sperano che il Presidente del Consiglio, Marco Piendibene, risolva nel più breve tempo possibile. Firmato questa mattina il verbale di consegna all'amministrazione comunale dell'area di proprietà della rete ferroviaria italiana che cosseggia Viale del Vittorio. Ospiterà un parcheggio come spiega in questa intervista il Sindaco Pietro Tidei. Sentiamo. Quando iniziamo noi nel 1995 in funzione del Giubileo a suo tempo con Ruini e Andreatta iniziamo a lavorare la variante 31. Dopo anni siamo riusciti a varare la variante 31 che purtroppo dobbiamo dire per circa dieci anni è rimasta lettera morta. La variante 31 significava acquisire da parte del Peruvio dello Stato un'enorme quantità di aree al centro di Giulia Vecchia che servono non solo per i parcheggi ma anche per la viabilità importante attorno alla stazione e quindi al centro di Giulia Vecchia. Che cosa è successo? È successo oggi che finalmente grazie all'intervento dei nostri funzionari a cui dobbiamo dare atto grazie all'intervento dell'assessore Serpente e grazie all'intervento di chi per vent'anni ha seguito questo progetto oggi siamo riusciti finalmente cioè il sottoscritto siamo riusciti finalmente ad entrare in possesso definitivo anche se adesso è provvisorio di tutte le aree attorno alla stazione dove noi vorremmo collocare a fine opera poste opera quasi 500 autovetture saranno da 400 circa autovetture con un passaggio pedonale anzi due passaggi pedonali che danno direttamente su Viale da Vittoria ed un passaggio carrabile prima del distributore di benzina su Viale da Vittoria perché questo? Questo servirà urgentemente intanto daremo una sistemata così al volo ma poi invece cercheremo di fare un parcheggio nel giro di 3-4 mesi comunque sicuramente prima di Natale per dare alla Marina e per dare soprattutto al Viale da Vittoria e quindi a tutto il Pirco a tutte quelle aree locali e non solo locali ma anche gli abitanti qualcosa come 400 posti macchina che sono veramente una cosa enorme se pensiamo che ci sono costati praticamente nulla la domanda che c'è da farsi è una sola ma perché per dieci anni queste aree nessuno le ha prese mai in consegna? E questa la lascio ai posteri la domanda Santa invece io ne ho un'altra di domanda perché 18 anni fa si parlava anche di un allargamento di Viale della Vittoria proprio su quel tratto è previsto anche questo? Non solo è previsto c'è già il progetto pronto che andremo in gara d'appalto credo tra non molto tempo si tratta di coprire la rimanente parte che ancora manca per appunto l'allargamento di Viale della Vittoria e soprattutto per la rotatoria al ponte delle quattro porte dove lì anziché il semaforo ci saranno le rotatorie e il problema vero è che dobbiamo invadere un pezzo di ferrovie dello Stato che stanno valutando tecnicamente come cedere quella parte su cui dovrà insistere la rotatoria quindi il progetto è pronto dovremo reperire soltanto una parte di finanziamento e poi anche quella sarà appaltata Due cittadini rumeni di 24 e 42 anni sono finiti in manette per furto e tentativo di rapine in provincia di Siena a rintracciarli sono stati gli uomini del commissariato di Viale della Vittoria che durante i consueti servizi di controllo hanno notato due uomini già noti sui quali pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Montepulciano i due a luglio del 2012 si erano resi responsabili in concorso con altro cittadino rumeno ancora latitante di un ingente furto in una tabaccheria in provincia di Siena Il consigliere comunale d'opposizione Daniele Perella ha presentato un'esposta alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti contro l'incarico di supporto al RUP e a un professionista esterno per lo svolgimento di ogni attività tecnico-amministrativa relativa all'attuazione di tutti i futuri interventi costruttivi di ERP su presupposti totalmente falsi per Perello infatti visto che tali interventi non possono essere annoverati tra i lavori pubblici il RUP non esiste tutte le attività conferite con tale atto rientrano tra le correnti attività d'ufficio che non possono essere affidate a terzi il consigliere non avendo ottenuto risposte positive né dal sindaco né dal segretario generale ha deciso dunque di presentare formale esposto alla Procura e ai Carabinieri per accertare la sussistenza di varie ipotesi di reato nonché alla Corte dei Conti per accertare ipotesi di responsabilità per danno erariale nei confronti di chi ha commesso il reato incredibile situazione relativa al soccorso stradale Civitale che infatti è rimasta senza carroattrezzi allora per il servizio deve rivolgersi ad un operatore di Ladispoli con prezzi che naturalmente sono lievitati notevolmente il servizio il fermo amministrativo di un veicolo è sempre un problema ma se si tratta di un ciclomotore o di un motociclo la situazione peggiora incredibilmente trasgredire il codice della strada non ha mai giustificazioni ma oltre ai punti della patente il vero incubo degli automobilisti è il carroattrezzi per via degli elevati costi lo è sempre stato ma con il nuovo colpo di genio della Prefettura di Roma la situazione è diventata insostenibile il ricorso al carroattrezzi spesso costa più della multa e il problema diventa ancora più evidente nella zona che va da Allumiere a Fregene passando per Civitavecchia le forze dell'ordine che sequestrano un mezzo sono obbligati a rivolgersi all'unico deposito giudiziario che lavora per contodita al soccorso Salvatore Trionfo con sede alla Dispoli in via Monteroni sull'Aurelia capita così che un ciclomotore sequestrato a Civitavecchia debba finire alla Dispoli con tutti i disagi che questo aspetto comporta dagli elevati costi ai lunghi tempi d'attesa per non parlare di chi si vede sequestrare l'unico mezzo a disposizione e non ha modo di raggiungere il deposito per il recupero del ciclomotore o del motociclo un vero e proprio salasso autorizzato del quale la Prefettura è perfettamente a conoscenza sul territorio ha due depositi ma il servizio in questa zona è affedato a trionfo a Civitavecchia nessuno lo ha voluto l'agente riscontra l'infrazione chiama il carroattrezzi che intanto parte dalla Dispoli e costringe il trasgressore ad attendere sul posto l'arrivo di colui che otterrà la nomina di custode se succede nei festivi o di notte le tariffe imposte sono 3,59 euro di custodia al giorno l'operazione di carico e scarico del motorino costa 27,37 euro il diritto di chiamata è addirittura di 18,25 euro e il trasporto del mezzo di notte ad esempio da via Tarquinia a via Monteroni alla Dispoli è pari a 353,93 euro calcolando 90 chilometri tra andate e ritorno per un totale di 406,73 euro da quest'anno la mensa scolastica si doterà di un nuovo sistema di pagamento la School Card il nuovo metodo permetterà alle famiglie di gestire la prenotazione giornaliera dei pasti nelle scuole di effettuare i pagamenti e di essere informati in tempo reale per ogni informazione e precisazione tutti i cittadini possono contattare il personale dell'ufficio della società All Food al numero 0766 590716 o possono inviare un'e-mail a m.pantalloni chiocciola allfood ssrl.com i requisiti e le modalità per avviare questa procedura sono chiariti dettagliatamente nelle pagine del sito del comune ora diamo spazio a un piccolo break di pubblicità a seguire ancora la nostra informazione di pubblicità di pubblicità di pubblicità di pubblicità di pubblicità